L'AIE concorda, tutti i pony dovrebbero saper difendere il loro stile di vita. Quindi, se questo è lo scopo del tuo lavoro, ti viene concessa l'approvazione provvisoria dell'associazione. Dovremo osservare la tua scuola in attività, prima che possa essere pienamente accreditata. Allora vi inviterai alla giornata famiglia e amici, sarà l'occasione ideale per valutare la scuola. No, è troppo, è troppo! Oh, tu credi? Speravo che vestendomi così mi sarei calata nel ruolo. Non è per quello! Dicevo, noi insegnare mi crederanno una secchiona! Beh, ai miei studenti viacerà il corso con lo spara coriandolo, sarà super esplosivo! Eh, ciao a tutti, sono l'insegnante. Spero vi piacerà la mia lezione, ma se non dovesse piacervi andrà bene comunque. Io non sono molto convinta. Andrà tutto benissimo, tutto quello che riguarda questa scuola sarà perfetto. Visto, se non è ansiosa Twilight non c'è niente di cui preoccuparsi. Sei proprio sicura di volere noi come insegnanti in questa scuola? L'Aie spiega chiaramente come gestire le scuole. Abbiamo un'enorme responsabilità e voi dovrete fare ogni cosa come da manuale. Il che vuol dire niente cannoni in classe, Pinky. Oh, nemmeno un piccillissimo cannoncino! So che non è una grande avventura contro le forze del male, ma potrebbe essere la cosa più importante che abbiamo mai fatto. Non posso gestire questa scuola senza le mie amiche. Posso contare su di voi? Ma certamente che puoi, tesorina! Va bene, chiamatemi secchiona! Ci sto! Primo giorno di scuola! E così tanti buoni nuovi! A proposito, ho dimenticato di dirvi una cosa. Non saranno soltanto come. Questa proprio non me l'aspettavo. Oh, gli studenti che frequenteranno la nostra scuola provengono da ogni dove. Princess Celestia mi ha messa in contatto con tutti i regni. D'altronde l'amicizia va condivisa con ogni singola creatura. Benvenuti alla scuola di amicizia. Sono la direttrice Twilight Sparkle. Potete rivolgervi a Starlight Glimmer per registrarvi e farvi assegnare alle classi. Poi vi mostreremo i vostri alloggi. Oh, scusami, io sono Sandbar. Sei iscritto alla scuola anche tu? No, girovagavo qui intorno per vedere quanti poni mi sarebbero venuti addosso. Gallus! Ehi, nonno Graff, che cosa ci fai tu qui? Sono venuto a pasta da Griffonstone per presentarvi Gallus. Rainbow Dash, giusto? Gilda mi ha parlato di te. Sei un insegnante. Pensavo fossi più forte. Pony! Principe Rutherford! Lei, Yacchiona. Venuta a scuola di Pony. Così scuola meglio. Yacch, volere tanto conoscere Pony e dire tutto di Yacchia che stanno. Ti porto a fare un giro prima che tu distrugga ogni cosa. Ma i draghi sono superiori a tutti. Cosa ci faccio qui? E perché come signora dei draghi ti ordino di stare qui? Ehi, Spike! Ti presento Smulder. E' bello vederti, Eber! Ehm...